Gli italiani spendono ogni anno centinaia di euro per il proprio conto corrente e la maggior parte di loro neanche se ne rende conto. È pur vero che le banche sono bravissime a nascondere alcuni costi ricorrenti e di meno attenti fra noi si trovano poi a pagare questi soldi ogni anno invece che tutelarli e tenerseli in tasca. Con questo video la mia intenzione è quella di riuscire a mettervi una pulce nell'orecchio, spingervi a riprendere in mano il contratto del vostro attuale conto corrente e farvi risparmiare ogni anno un bel po' di soldini. Vedremo quattro spese assurde che se presente nel vostro conto corrente, beh, cambiatelo subito e nella parte finale del video vedremo come con una semplice strategia di marketing davvero spicciola le banche ci fregano ogni volta. Amici ben ritrovati, io sono Don Maglio e su questo canale parliamo solitamente di strategie di risparmio, investimenti e come gestire al meglio le proprie finanze. Chi mi conosce da tempo sa bene che porto avanti questa mia battaglia contro le spese inutili regalate alle banche da un po' di tempo. E la prima spesa di cui voglio parlarvi oggi è quella relativa ai costi di commissione per i prelievi agli ATM. Per quale motivo, se devo prelevare i miei soldi, miei, devo dare una commissione a te. Per quanto mi riguarda questa cosa è assurda e se ogni volta che andate a prelevare dei soldi all'ATM dovete pagare una commissione, beh, cambiate assolutamente il vostro conto. Oggigiorno ci sono delle alternative a tutto questo e potremmo suddividerle in tre categorie principali. Prelievi gratuiti dagli ATM proprietari. Molte banche danno la possibilità di prelevare i propri correntisti in modo totalmente gratuito a patto che venga utilizzato l'ATM proprio della banca. Per questa tipologia di conti correnti, però, qualora voi scegliate di prelevare i vostri soldi presso un ATM terzo, beh, andrete a pagare in media 2 euro di commissioni. Senza dubbio questa tipologia di prelievo è migliore rispetto a quella di dover pagare sempre e comunque ma presenta delle limitazioni. Magari ci dobbiamo immettere nel traffico cittadino per poter andare a prelevare l'ATM della nostra banca ed ovviamente questa non è certo una cosa molto simpatica. La seconda categoria è quella dei prelievi gratuiti a patto di prelevare un minimo ogni volta. Qui le cose iniziano a migliorare, molte banche stanno utilizzando questa tipologia di prelievo in cui i prelievi sono gratuiti da qualunque ATM a patto che si vada a prelevare una cifra di almeno 100 euro. Strano ma vero, ma alcune banche hanno risolto del tutto il problema delle commissioni di prelievo. Sono pochissimi, ma ne rendo conto i conti correnti che ci danno la possibilità di prelevare gratis da qualunque ATM senza nessuno dei vincoli che abbiamo visto fino a questo punto. Sono pochi, ma esistono. Mi viene ad esempio in mente AIP attraverso la quale possiamo prelevare da qualunque ATM senza nessun tipo di vincolo addirittura possiamo prelevare anche dai postamat. Piuttosto alla fine di questo video fammi sapere come si sta comportando il tuo di conto corrente scrivimelo nei messaggi, parliamone insieme e se non sei ancora iscritto a questo canale iscriviti per non perderti tutti gli altri contenuti. Un altro modo che abbiamo di regalare soldi alle banche è quello relativo alla carta di debito, il cosiddetto Bancomat. E lo so che potrebbe sembrare stranissimo per molti di voi, ma ancora oggi nel 2024 esistono degli istituti di credito che fanno pagare la propria carta di debito. E no, non mi sto riferendo ai costi di emissione che tutto sommato potrebbero essere anche giustificati, ma proprio un canone mensile per poter utilizzare la propria carta. Ora, questo potevamo aspettarcelo forse qualche decennio fa, ad oggi penso sia proprio un insulto all'intelligenza delle persone. Alcune banche, addirittura in modo abbastanza furbetto, in fase di sottoscrizione di stipule del contratto relativo al conto corrente, danno la possibilità di scegliere fra due carte di debito. Una solitamente sul circuito Bancomat, utilizzabile solo ed esclusivamente in Italia, e un'altra invece internazionale sul circuito Visa o Mastercard. Ovviamente la prima è totalmente gratuita, la seconda è a pagamento. Ora, nel 2024 capita praticamente a tutti, magari in un weekend, di andare a fare un piccolo last minute, andare magari fuori Europa per rilassarsi 48 ore. Beh, non è certamente il massimo avere poi nel portafogli una carta che è assolutamente inutile all'estero. Però, ovviamente, state tranquilli perché con solo 1,50€ al mese potrete avere una fantastica carta di debito internazionale. Praticamente tutte le carte al 99% che vengono date all'apertura del conto corrente sono internazionali, nel senso che con quel circuito Visa o Mastercard la si può utilizzare in tutto il mondo. Anche in questo caso l'unica soluzione è quella di cambiare il conto. La terza spesa assurda dalla quale scappare a gambe levate se presente nel vostro conto corrente è quella relativa ai bonifici bancari. Allora, signori, i bonifici devono essere sempre gratuiti. I bonifici istantanei, che ancora sono a pagamento, diventeranno anch'essi gratuiti. Non pagate neanche un euro per i bonifici. Grazie al cielo, questa è una di quelle caratteristiche che oramai non si trova quasi più a pagamento, però ci sono alcuni istituti che ti fanno pagare un euro ogni volta che inserisci un bonifico. Vero poste italiane? Su questo punto direi che non c'è granché altro da dire, ovviamente se avete un conto corrente che vi fa pagare i bonifici, chiudetelo immediatamente. Un po' per l'ignoranza della gente, un po' per una bella trovata di marketing. Quando si parla di conti correnti a zero euro, conti correnti gratuiti, la gente fa sempre un po' di confusione. Si parla di conti correnti a canone zero, conti correnti gratuiti, solo in relazione ai costi di tenuta conto. Questo significa che aprire un conto e tenerlo magari anche inattivo non ha nessun costo di gestione. Ciò non significa che questo conto sia gratuito. Non essendo le banche delle onlus, nel momento in cui prestano un servizio come quello del conto corrente, giustamente devono guadagnarci. Ma se il così tanto pubblicizzato conto corrente a zero spese poi mi fa pagare per la carta di debito, mi fa pagare per i prelievi, mi fa pagare per i bonifici, beh capite anche voi che la fantomatica costo zero o conto corrente gratuito non è altro che uno specchietto per le allodole. Per questo motivo non è sempre sbagliato pagare il canone sul conto corrente, ovviamente con le dovute eccezioni. E sì perché ci sono conti correnti che ti fanno pagare oltre al canone mensile anche tutti gli altri servizi che stiamo vedendo. E' proprio questo il ragionamento che ho fatto per il 2024 di utilizzare la versione Next di Hype che ha un costo mensile di 2,90€. Ovviamente questo non è nel modo più assoluto un video sponsorizzato da Hype. Vi sto riportando quello che in realtà vi avevo già detto nel video della tecnica dei tre conti che vi lascio qui da qualche parte e che con 2,90€ al mese mi dà praticamente la possibilità di fare tutto a zero euro reali. Per qualcuno magari posso capire questa tipologia di discorsi possono sembrare anche esagerati, ma la verità è che se non prestiamo attenzione ai soldi che se ne vanno senza il nostro controllo del conto corrente, beh il conto corrente diventa una rada in più ogni mese. Quindi riprendete in mano il contratto del vostro conto corrente, leggetelo con attenzione, perché si sa solo chi conosce sceglie, altrimenti crede di scegliere. Sono curioso di sapere come si è comportato il tuo conto corrente, ti aspetto nei commenti ma noi ci vediamo in un prossimo contenuto. Ciao giovani!